Questo può considerarsi un tutorial per fare esercizi. Benvenuto in Stromba e Zumba. Esercizi spirituali ovviamente, perché ci dobbiamo allenare per fare un po' di trekking. Quindi possiamo andare. Spirituale anche questo. Esattamente come hanno fatto dietro Giacomo e Giovanni. Tre discepoli di Gesù, che Gesù ha scelto per scalare una montagna arrivare fino in cima. Non mi chiedere perché ne ha scelti solo tre e mezzo a dodici, anche perché che te frega. Forse erano i più allenati, ma non importa questo. Ciò che importa è che oltre l'esercizio fisico, questi fanno anche un vero e proprio esercizio spirituale. Che poi è l'esercizio che ogni cristiano dovrebbe fare per incontrare Dio. E come si fa questo esercizio? Molto semplice, in tre tempi. Ovvero sia l'ascesa al monte, la contemplazione del suo volto e di nuovo la discesa. Pare facile, ma partiamo dall'inizio. L'ascesa. Sembra che tocca solo salire, ma in realtà che cos'è l'ascesi cristiana? Quel momento in cui ti stacchi da tutto e da tutti e vai verso l'alto, il più possibile vicino a Dio. E ti pare facile, ma non lo è. Infatti prova ad allontanarti da tutte le cose a cui tieni di più e vedrai la faticaccia. Non è un caso se i tre discepoli, quando arriveranno in cima, saranno talmente stacchi che non ce la faranno a restare svegli. Ed è lì che accade il secondo momento, che li risveglia. Gesù cambia aspetto, si trasfigura. Ma che significa che era un'altra persona? No, era sempre lo stesso. Solo che si mostra nella sua vera identità. Perché sotto il monte, i discepoli, stando nel mondo, avevano un'immagine un po' troppo umana di Gesù. Un Gesù secondo le nostre categorie. Però lui è comunque sempre Dio. E Dio non usa le nostre categorie. Ed è così che funziona quando ti stacchi da tutto. L'immagine distorta che hai di Dio si purifica e tu lo vedi veramente per quello che è. E non solo. Accanto a Gesù si presentano anche Mosè ed Elia, simboli della legge e della profezia. E tu guardi sotto un'altra ottica anche quello. I comandamenti non ti sembrano più un ostacolo che blocca continuamente il tuo cammino. Ma una via per camminare dritti. E la profezia non è più soltanto qualcosa per pochi. Perché ti ricordi che anche tu sei investito di questa grazia senza che te lo meritavi. Insomma, in quella cima appare tutto diverso. Il mondo, la vita, le persone, tutto. Ed è quello che hai sempre voluto vedere. E vorresti restare lì per sempre. Ma... Ma non è possibile. Infatti l'ultimo passaggio è la discesa. Perché quel nuovo modo di vedere le cose serve per tornare giù. Per riprenderti quello che hai lasciato sotto e usarlo come si deve. Senza più entrare in confusione ogni volta. Perché sopra hai visto chiaramente qual è il vero senso delle cose. In altre parole, pare facile questo esercizio? Forse sì, forse no. E quindi se sei fuori allenamento, inizia a esercitarti. E vedrai come ti trasfiguri anche tu. Grazie. Grazie.